...7 Reynols, 22 Gibson, 45 in tempo. E da sotto il Monte Canao, 4 Steel, 5 Cicciarini, 9, 3, 21, Edrius, 23 e Bert. Abiti dell'incontro, signorino Cuzzo, Cacucci e Borgioni. Grazie a tutti. 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 Sì, 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 sì. Ficciano! In fraccione di passi rimessa a sudor Montegravao. In fraccione di passi rimessa a sudor Montegravao. Andrius, primo fallo. Gibson in Loretta. Varno, prima per lui. Varno, prima per lui. Andriusama. Sì, 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 Sì. 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 Sì, Sì. Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. 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 Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. 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 Sì, Sì. Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. 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 Sì, Sì. 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 Cambio Brighisi, entra con il numero 21, Nicolae Edis, esce con il numero 4, Vigiano. Fulsa, il secondo quadro. 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 Il secondo quadro. Il secondo quadro. Grazie a tutti. 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 Buongiorno. Per la seconda fase del gioco. Supermonto delarco, 32. Edirichichi, 33.